Resiste solo un set, il sestetto ionico al Franceschino Filpo nella penultima di campionato di Serie C femminile contro la Bioresole a volio volle di Castrovillari, arrivando fino al 25-23, anche grazie ad una ricezione disastrosa delle ragazze castrovillaresi che fanno infuriare Cocci, Graziano e Feoli. Tutto questo è stato il contributo del Soberato all'incontro, dopodiché le ioniche scompaiono al cospetto dello strapotere della Bioresole che dilaga grazie alle bordate dei due martelli ammirati a Pugliese. Lo score finale sarà 25-23, 25-14, 25-12. Regolar season finita per le castrovillaresi, visto che riposeranno il prossimo turno, che chiudono al primo posto davanti al volley San Lucido, alla Acli Settegoli di Cosenza e alla Forgest di Lamezia. Le quali affronteranno nei play-off le prime quattro del girone B, che sono nell'ordine la Costa Viola di Villa San Giovanni, la Paper Moon di Gioiosa Ionica, la New Team di Melito Portosalvo e la Pallavolo Metaura di Gioia Tauro. Importante la comitia di pubblico che ha accompagnato la vittoria delle ragazze del Pollino, soddisfazione sulle facce dei due cocci, Alberto Graziano e Tiziana Feoli, che sono già con la testa ai play-off. In bocca al lupo! Grazie!